La festa della Madonna della Guardia Leivi è sempre un momento gioioso d'incontro in un paese per sua natura sparso. Lo testimoniano amici d'infanzia che, seppur con ruoli istituzionali mutati nel tempo, mantengono questo legame di fedeltà all'amicizia e alla comune devozione mariana. Due del 51 ci tengo a precisare, qui manca Battista che sarebbe il terzo, i tre autoctoni del comune di Leivi. È un'amicizia che dura da quanti anni? È da quanti siamo conosciuti, da 60 anni in più. I preparativi e i materiali della festa sono portati avanti da un gruppo di massari di anno in anno rinnovato, pur con presenze che danno continuità all'operato. L'impegno dei massari è sempre intenso perché ci siamo sempre pochi, diciamo, e quindi lo facciamo spesso sempre gli stessi. È andata bene, soprattutto il tempo ci ha assistito e mi sembra che la partecipazione sia stata buona, diciamo. L'evento centrale dei festeggiamenti è rappresentato dalla processione. La statua, che richiama la manifestazione di Maria sul Monte Figogna, è preceduta dal crocifisso ligno della parrocchia. Faceva parte prima dell'oratorio che c'era anche qua a San Ruffino e sono tre crocifissi, di cui uno è qua sull'altare, uno è conservato in sacristia e diciamo il più grande, diciamo, è questo qua, è il più recente rispetto a questi qua che sono sull'altare. È caratteristica che è fatto, diciamo, l'immagine è fatta in Trentino, era stata commissionata e poi i cantonali, così era, fatti da scultori della zona. Nel giorno della festa la liturgia è stata guidata da prete Rinaldo Rocca, che facendo riferimento al ruolo di guardiana, ha evidenziato le insidie da cui Maria oggi deve proteggere il popolo dei fedeli. Dalla dispersione, dall'inconsistenza, dal non essere chiesa, da vivere un rapporto molto individualista, estemporaneo, superficiale col Signore e non quotidiano.